Il virus non ferma la Movida e questo weekend, con la riapertura di barre locali, anche i giovani sono tornati per strada, con le forze dell'ordine a dover monitorare assembramenti e mascherine. Anche la polizia è tornata alla normalità, costretta a osservare chi si diverte da un angolo della piazza, come a piazza Muzi, punto di riferimento della Pescarabene, dove gli agenti hanno identificato 70 persone. Tra queste due sono state portate in questura perché senza documenti, altre due denunciate per ubriachezza molesta e nove sanzionate per non aver indossato correttamente la mascherina. In questo caso la multa è di ben 400 euro, 280 se pagata subito. I residenti di Pescara Centro, da anni in lotta contro gli schiamazzi notturni, plaudono al coprifuoco del Luna imposto dal sindaco Masci, ma si dicono preoccupati per il grande assembramento a cielo aperto, fuori dai numerosi locali concentrati in poche vie. Situazione molto meno movimentata nel Chietino, tra Chieti, Lanciano, Francavilla e Vasto, 95 persone identificate e 43 esercizi controllati. Una sola multa a un bar di Lanciano per aver venduto alcol a un minorenne. Anche a Teramo weekend di notturni, con gente in strada specialmente nei pressi di Piazza Sant'Anna, dove però le forze dell'ordine che presidiavano il centro non hanno fatto multe. I residenti al mattino hanno lamentato cocci di bottiglia e sporcizia, insomma tutto come prima del Covid. Polizia scatenata all'Aquila, nel capoluogo ben 875 persone identificate e 313 esercizi controllati, ma solo 4 le multe. Insomma tanta gente in giro, ma non sempre con la mascherina e mentre gli esercenti tirano un sospiro di sollievo per essere tornati a lavorare, il rischio è che la curva dei contagi torni a salire. Nella giornata di ieri cinque nuovi positivi in Abruzzo, lo 0,3 per cento dei 1377 tamponi processati e quattro ulteriori morti. Occorre quindi una presa di coscienza collettiva, se mai non vi fosse ancora, della gravità della situazione, che porti a un'autogestione responsabile degli individui. E questo tenendo a mente che sono ancora 1092 pazienti attualmente positivi nella nostra regione, di cui tre in terapia intensiva. Una notizia confortante arriva da Chieti, dove il Santissima Annunziata ha chiuso il reparto Covid, con la dimissione dell'ultimo paziente, tra gli applausi del personale sanitario.